pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica ci pone davanti ad un punto decisivo per la nostra vita spirituale che potremmo riassumere con una domanda escludenti o accoglienti vediamo un po i discepoli sono in cammino con gesù a un certo punto giovanni gli riferisce di aver visto un tale che nel suo nome stava compiendo un esorcismo con buoni risultati ma volevano impedirglielo perché non faceva parte del loro gruppo qual è il problema come ha detto bene papa francesco giovanni e discepoli manifestano un atteggiamento di chiusura davanti a un avvenimento che non rientra nei loro schemi pensate i discepoli di gesù poco prima non erano riusciti a compiere un esorcismo ci riesce invece una persona esterna al loro gruppo vedete miei cari la tentazione di bloccare l'altro quando non è nella nostra zona di controllo o quando non rientra nei nostri parametri è sempre forte quando accade è indice di una mente o di un ambiente chiuso non solo questo loro atteggiamento nasce da uno zelo sincero ma distorto giovanni e gli altri assolutizzano il loro senso di appartenenza diventando esclusivi ed escludenti mentre gesù ci chiama ad essere inclusivi e accoglienti anche qui miei cari il rischio che tutti corriamo e sentirci gli esclusivi seguaci di gesù i possessori della grazia la sintesi di ogni carisma e diventare appunto escludenti nei confronti degli altri pensate ad esempio la difficoltà che a volte abbiamo a riconoscere l'opera dello spirito santo al di fuori della chiesa riconoscere il bene che anche altri compiono o nella chiesa stessa le difficoltà nella comunione che a volte vivono tra di loro gruppi o movimenti ecclesiali a volte anche le parrocchie nell'accoglierli ci si guarda con sospetto la diversità è quasi percepita come una minaccia come una concorrenza al punto da non riuscire più a vedere il bene che l'altro compie ma nel momento in cui scattano espressioni come essere dei nostri o il nostro cammino è migliore di un altro e ci stiamo ponendo fuori e dall'azione dello spirito ci stiamo affossando nel fango dell'invidia e della rivalità quante volte purtroppo anziché corresponsabili si diventa concorrenti anziché fratelli si diventa rivali invece miei cari gesù appare molto libero aperto alla libertà dello spirito di dio che agisce ovunque senza limiti ed ecco infatti la sua risposta ai discepoli non glielo impedite non c'è nessuno che può operare nel mio nome e poi parlar male di me chi non è contro di voi e per voi gesù vuol far capire che quella persona anche se non faceva parte del gruppo dei discepoli stava operando bene credeva davvero nell'efficacia del suo nome questo ci aiuta a non dimenticare che dio agisce sempre e non solo dove noi pensiamo o crediamo di poterlo controllare e a volte anche quelle persone che non sono ancora arrivate a frequentare la chiesa o a fare un vero e proprio cammino possono comunque avere una fede sincera in nuce magari più intensa di chi invece ogni domenica vai in chiesa sì ma a scaldare le panche e gesù aggiunge chi non è contro di voi è per voi come a dire non vedete nemici dove non ci sono il fatto che non è con voi non significa che è contro anzi è per voi come ha detto ancora il papa questo l'invito che gesù rivolge anche a noi oggi egli ci chiama non pensare secondo le categorie amico nemico noi loro chi è dentro chi è fuori ma ad andare oltre ad aprire il cuore per riconoscere la presenza e l'azione di dio anche in ambiti insoliti e imprevedibili e in persone che non fanno parte della nostra cerchia e ora miei cari allargando la riflessione proviamo a prendere tre punti concreti che possono aiutarci a diventare persone inclusive e accoglienti primo saper vedere il bene con queste parole è come se gesù ci stesse dicendo imparate a riconoscere il bene che gli altri compiono non fermatevi ai vostri parametri al nome o alla provenienza di chi lo compie non partite da ciò che non va o da ciò che manca partite dal buono che si può valorizzare pensate anche a livello relazionale a livello educativo quanto sia importante tutto ciò ad esempio come si può crescere un figlio con una sana autostima se viene sempre criticato se gli viene sempre fatto notare ciò che non riesce a fare ben altra storia e se invece viene incoraggiato e viene valorizzato il bene che compie o pensate anche in una coppia che clima ci sarà se non appena uno dei due manca in qualcosa l'altro subito e sempre glielo fa notare ben altro clima ci sarà se invece si parte dal riconoscere e valorizzare e ringraziare per il bene che l'altro compie e questo miei cari non riguarda solo il bene compiuto ma anche la verità con queste parole come se gesù ci stesse ricordando che la verità può agire e ci può arrivare a qualsiasi parte dio ci può parlare attraverso l'ultimo dei fratelli ma se noi ci chiudiamo ci assolutizziamo se pensiamo di sapere già tutto come potrà dio parlare al nostro cuore se siamo già pieni cosa potrà avversare in noi secondo punto miei cari per essere persone inclusive e accoglienti è necessario essere grati per il bene ricevuto gesù subito dopo dice ai suoi discepoli chi darà anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché mio discepolo in verità vi dico non perderà la sua ricompensa ci suggerisce il valore che dio dà al singolo gesto di carità in questo caso compiuto riconoscendo che quella persona è un suo discepolo allargando potremmo dire che è bello saper riconoscere ed essere grati per il bene ricevuto anche per i più piccoli gesti d'amore che sono come un bicchiere d'acqua fresca che dissetano il cuore miei cari coltivando una certa povertà di spirito potremmo renderci conto che nulla ci è dovuto ma tutto è grazia essere dunque persone grate che sanno riconoscere il bene ricevuto dagli altri che non solo quindi non vedono gli altri come persone contro ma che sanno riconoscere il bene che da essi ricevono a cominciare dalle persone che abbiamo accanto fino a quelle che incontriamo sporadicamente sì miei cari essere grati perché anche dietro il più piccolo gesto d'amore c'è del tempo dell'attenzione della cura che quella persona sta dedicando proprio a te e infine miei cari terzo punto per essere persone inclusive e accoglienti è necessario combattere una sana lotta spirituale gesù dice chi scandalizzerà anche uno solo di questi piccoli che credono in me è meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e si è gettato nel mare perciò se il tuo occhio ti è di scandalo cavalo se la mano e il piede ti sono di scandalo tagliali è meglio entrare monco nella vita che perdersi integri nel fuoco della genna è un linguaggio paradossale tipico del mondo semitico chiaramente da non prendere alla lettera se no sfido io chi in giro sarebbe integro ma gesù vuol farci capire quanto grave sia scandalizzare cioè ostacolare la fede il cammino degli altri dunque metticela tutta per togliere tutte quelle parole quegli atteggiamenti quelle azioni che possono ostacolare la comunione che possono escludere l'altro che non profumano d'amore vero metticela tutta per eliminare tutti quegli atteggiamenti faziosi autoreferenziali che ti chiudono agli altri e ti rendono incapace di vedere il bene di valorizzarlo di accoglierlo cari fratelli e sorelle che il signore ci aiuti davvero ad aprire mente e cuore che ci aiuti a saper riconoscere la sua opera e la sua presenza anche fuori dai nostri schemi e dai nostri recinti che ci aiuti a diventare persone realmente inclusive e accoglienti perché attraverso i nostri sguardi i nostri gesti e le nostre parole in qualche modo gli altri possano sentirsi accolti dal signore stesso che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti